Ben 60 ragazzi carmignanesi dai 14 ai 19 anni sono pronti a partecipare all'iniziativa Ci sto a fare fatica, terza edizione. Durante l'estate i giovanissimi divisi in sei squadre per una settimana a turno si occuperanno di svolgere alcuni interventi utili per la comunità come le opere di manutenzione, riqualificazione e sistemazione di spazi pubblici comunali diretti da specifici tutor. Un primo approccio verso i beni comuni e il mondo del lavoro. Ecco cosa riceveranno in più oltre alla bella esperienza. I nostri ragazzi potranno svolgere attività di manutenzione all'interno del nostro territorio durante il periodo estivo e dall'altra parte riceveranno una buona fatica che potranno spendere all'interno delle nostre attività commerciali anche nelle associazioni sportive.